850 metri, spostatevi sulla testa. 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 Sì, vedi i barbetti Inca l'intero trovata, vedi l'interza uscita guardate a destra Grazie a tutti. Passiamo qui a l'Hitzeze. L'Hitzeze. Leitmannsstrazeggero. L'Hitzezeze. L'Hitzezeze. Giratti sinistra. Ma non c'è un po' di questo. Girate a sinistra Girate a destra Girate a destra 600 metri, girate a destra Girate a destra Eccle 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 3 secondi, girate a destra, via generale 14, porto, girate a destra .. Girate a destra Girate subito a sinistra 250 metri, girate a destra in via Filippo Corrigo Girate a destra In tramita rotonda, piazza uscita Hai raggiunto una gamba per me 500 metri Entra nella rotonda Prendete seconda uscita 300 metri Entra nella rotonda Prendete seconda uscita Piave nella pace In tramita rotonda Prendete seconda uscita In tramita rotonda Prendete seconda uscita Prendete支 Prendete seconda uscita Prendo 600 m Scusate la rotonda, vede prima uscita. Scusate 100 metri, spostatevi sulla destra. Scusate 100 metri, spostatevi sulla destra, in via di Francia. Scusate 100 metri, spostatevi sulla destra, in via di Francia. Scusate 100 metri, spostatevo sulla destra. Scusate 100 metri, spostatevi sulla destra. ... 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 Inca nella rotonda, prendete la uscita. Inca nella rotonda, prendete la seconda uscita. Inca nella rotonda, prendete la seconda uscita. Inca nella rotonda, prendete la seconda uscita. Grazie a tutti Grazie a tutti